Attilio Urciuolo, servizi internet e siti web. Angelo D'Agostino, deputato e vicepresidente nazionale di scelta civica. Quanto è accaduto a Cassano, aggiunge il parlamentare, ormai l'ennesimo incidente che ha evidenziato quanto sia urgente intervenire sulle nostre reti e quanto sia a rischio molte delle comunità irpine che sono servite dalle condotte che presentano maggiori danni. Le percentuali di perdita sono oramai quasi al 50%, una condizione insostenibile, specie se si considera che l'acqua è la principale risorsa di cui dispone l'Irpinia. Se a questo aggiungiamo che il suo costo è andato progressivamente aumentando, pesando sempre di più sui cittadini, è evidente che ci troviamo dinanzi a una situazione che al tempo stesso, paradossale e incresciosa, regioni alto calore, conclude D'Agostino, hanno il dovere di agire e di conseguenza di farlo in fretta.